Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 ottobre 2022 e con questo video messaggio vi informo che non riuscirò purtroppo a fare la rassegna stampa quest'oggi alle 12.30 e non credo di riuscire a farla proprio neanche in giornata perché questa mattina sono fuori per alcuni impegni importanti personali a questo punto rimanderei a domani sempre alle 12.30 la rassegna stampa del TG Verità appunto per vagliare insieme quelle che sono le notizie che ci vengono date con un taglio diverso insomma come facciamo sempre tutte le mattine, vi chiedo scusa per il disagio ma questa mattina nonostante tutto ho cercato con il mio computer portatile di creare una piccola regia anche qui dall'automobile come vedete per poter fare questa rassegna stampa avendo tutti almeno le informazioni, i documenti e tutto ma il computer ha deciso di lasciarmi la batteria mi ha abbandonato nonostante fosse carica quindi sicuramente non è cosa e allora ci vediamo domani sempre per lo stesso appuntamento della mattina grazie a tutti e se l'ho dato Gesù Cristo